Nella giornata di ieri sono stati effettuati 993 controlli per la verifica sull'osservanza del divieto di spostamento previsto dai decreti del Presidente e del Consiglio dei Ministri. Le violazioni contestate sono state 30 con conseguente segnalazione dei trasgressori alle competenti autorità giudiziarie. Sempre nella giornata di ieri sono stati compiuti 384 controlli alle attività commerciali senza alcuna contestazione di violazioni. Continuano inoltre a prevenire in prefettura le comunicazioni delle aziende che intendono proseguire le proprie attività produttive, industriali e commerciali in quanto rientranti nelle ipotesi indicate dal decreto del Presidente e del Consiglio del 22 marzo scorso. Le comunicazioni acquisite ammontano stamane a 247 per le quali è stato comunque già avviato l'esame delle istanze con l'ausilio anche del locale comando provinciale e della Guardia di Finanza nonché degli uffici della Camera di Commercio. Inoltre, per ascoltare le istanze del mondo produttivo, la Prefettura di Pesaro Urbino ha attivato diversi tavoli d'ascolto con le organizzazioni sindacali territoriali ed ha interessato la Regione Marche e le amministrazioni comunali competenti al fine di instaurare ogni possibile utile collaborazione. Grazie. Grazie.